ragazzi benvenuti e buonasera e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano c'è poco direi da dire stasera, stasera io volevo solo, scusate se intanto il microfono me lo sistemo perché sono troppo imbarcato e se no non riesco a parlare mi tocca sta tutto torto ma stasera c'è semplicemente da constatare una cosa, dopo la partita dell'Inter con l'Udinese non c'è da dire altro che constatare la superiorità della squadra nera-azzurra in tutto e per tutto in questo campionato di Serie A 23-24 e vi spiego il motivo tanti di voi si aspettavano un video sfottò, si aspettavano un video sfogo ma qui c'è poco da sfogarsi e poco da, come si dice, da sfottere oggi dobbiamo parlare seriamente di alcune cose allora, innanzitutto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e ovviamente commentate quando avete finito di vedere il video allora, partiamo dalla superiorità dell'Inter rispetto alla Juventus in quanto ai giocatori e tutti lo sappiamo, nonostante io continuo a vedere a livello di squadra, di organico una superiorità minima e non così netta tra le due squadre anche perché l'unico reparto, secondo me, nettamente superiore dell'Inter rispetto alla Juventus è il centro campo io poi la difesa non la cambierei mai con quella dell'Inter e l'attacco neanche ad oggi cioè io Chiesa e Vlaovic, indipendentemente da come vengono messi in campo io non li cambierei, certo, con Lautaro e Turam poi giustamente ognuno ha le sue idee e può dire quello che meglio crede quello che pensa, più giusto dire però la cosa che vedo che fa più differenza tra le due squadre è un gioco che da una parte non c'è o comunque viene improvvisato o comunque viene impostato tanto sulla fase difensiva che, ripetiamo, è fondamentale è fondamentale non subire gol dall'altra parte però vediamo un gioco che è impostato sia sulla fase difensiva perché è la migliore difesa l'Inter quest'anno ma sia su una fase offensiva giocata praticamente a memoria cioè movimenti ripetuti e ripetuti e ripetuti e ripetuti e ripetuti lo sfinimento come diceva Audino ieri e concordo pienamente con lui cioè sono movimenti ormai entrati nella testa dei giocatori, no? che quando le provi talmente tante volte in allenamento c'è poco da fare c'è poco da fare ti vengono anche con gli occhi bendati cosa che la Juventus non riesce a fare almeno per il momento poi probabilmente uno può dire potrà succedere più avanti però io ho i miei dubbi perché se è il terzo anno che abbiamo lo stesso allenatore e questi movimenti non vengono assimilati o i movimenti dell'allenatore per carità perché poi Inzaghi può avere i suoi dettami e allegri i suoi però io non vedo una costruzione e una manovra offensiva fatta a memoria vedo sempre improvvisazioni ovviamente per la qualità dei singoli ma l'Inter oltre ad avere la qualità dei singoli come ha anche la Juventus ha questo gioco corale che secondo me a livello offensivo è nettamente superiore quindi diciamo le cose come stanno almeno io dico le cose come stanno e come credo stiano l'Inter in questo momento è superiore alla Juventus e può solo che perdere questo scudetto perché nonostante le competizioni Champions League in più rispetto alla Juventus io credo che i giocatori del calibro dell'Inter, della Juventus comunque sono abituati alcuni sono campioni e quindi da una parte e dall'altra e quindi non credo che il discorso Champions League possa influenzare più di tanto anzi secondo me influenza un po' più dal livello mentale in positivo perché carica l'ambiente anche perché abbiamo parlato anche noi con diversi ex calciatori sapete con quanti ex calciatori abbiamo parlato e mi è stato ribadito più volte che è da sfatare questo discorso che i giocatori sono stanchi se giocano una partita ogni 3-4 giorni invece che una ogni 6-7 ecco perché fanno quello si allenano e fanno quello non è che poi sono in fabbrica la mattina o la sera quindi a livello fisico tutti ce la fanno tutti ce la fanno togliamoci dalla testa ma non ve lo dico io ve lo dicono giocatori che hanno militato in Serie A e sapete di sto parlando abbiamo avuto i ospiti quindi lì c'è poco da avere alibi detto questo io quest'anno credo che se la Juventus fa bene a rimanere lì a fare il suo a rimanere attaccata all'Inter il più possibile spero che ci rimanga fino alla fine come è il nostro motto però per far sì che ci sia questo cambio di posizione prima seconda definitivo ci vuole un tra virgolette passatemi il termine un suicidio a livello sportivo dell'Inter della squadra nero-azzurra perché ad oggi mi sembra troppo improbabile che che cali cali semplicemente dal punto di vista fisico poi tutto può succedere il pallone è tondo però poi vediamo che non ci sono altre squadre che danno fastidio all'Inter se non la Juventus perché il Milan oggi si è dimostrato una squadra che non può al momento lottare per lo scudetto ci sono chi c'è c'è la Roma c'è la Fiorentina il Bologna la Lazio ha pareggiato col Verona il Napoli che ha perso con l'Inter ha perso la Juventus cioè ci sono squadre troppo troppo improvvisate quest'anno sarà un campionato strano ma vedo una battaglia tra le due tra le due tra l'Inter e la Juventus io spero che duri il più a lungo possibile anche se ripeto ho paura ho le mie paure certo la fase difensiva è fondamentale la Juventus la sta facendo egregiamente Allegri sta facendo un lavorone dal punto di vista difensivo ma non vedo questo step di miglioramento nella fase offensiva ripeto e quindi secondo me la vera differenza tra le due squadre oggi è il gioco una ce l'ha e una non ce l'ha che dipenda solo dall'allenatore che sia l'allenatore i giocatori e tutto dite quello che volete va benissimo tutto sono aperto a ogni tipo di dialogo e confronto non voglio fare quello che insulta da una parte o insulta dall'altra non voglio cadere nella bassezza di tanti soggetti che si attaccano a una cosa piuttosto che a un'altra sto cercando semplicemente di dare una valutazione obiettiva e credo che in questo momento non ci sia non ci sia tanto da fare una disamina diversa no? ragazzi l'Inter quest'anno vola l'Inter quest'anno vola e ripeto secondo me poi ditemi se mi sbaglio non è solo un discorso di rosa con più qualità rispetto a quella della Juventus perché la Juventus ha dei calciatori che nell'Inter a livello difensivo offensivo giocherebbero giocherebbero stop c'è tanto da da stare lì a discutere ecco un cambiaso sulla destra giocherebbe anche all'Inter probabilmente non so se un Kostic prenderebbe il posto di Marco non credo ma probabilmente un Ealing probabilmente un Vlaovic accanto a Lautaro probabilmente un Chiesa probabilmente un Bremer probabilmente uno Chiesny Chiesny e Sommer più o meno si equivalgono secondo me è meglio Chiesny ma vediamo siamo lì comunque non c'è tutto questo dislivello secondo me la parte fondamentale è il gioco in fase offensiva che una squadra ha a memoria e l'altra no mi dispiace per quelli che aspettavano lo sfottavo lo sfotto non c'è stato non sto facendo i complimenti non mi sto congratulando con nessuno ma sto semplicemente dicendo quello che è giusto dire ci vuole obiettività quando si fa questo mestiere se lo vogliamo chiamare così quindi vi richiedo gentilmente di lasciare un like di commentare di dirmi cosa ne pensate del video condividete il contenuto e iscrivetevi al canale fino alla fine forza Juve ragazzi e ci vediamo domani poi domani sera faremo una live credo domani sera dopo le partite qualcosa ci inventeremo stasera permettetemi una serata di passo perché sono veramente distrutto ho un mal di testa fuori dal normale comunque Inter 4 Udinese 0 secondo me e qui non ho visto neanche troppa roba a livello di arbitri questa giornata fortunatamente non è stata condizionata troppo dagli arbitri però bisogna bisogna che si faccia qualcosa noi o che loro sbaglino tanto per poterlo perdere quest'anno fino alla fine forza Juve ciao ragazzi grazie a tutti